Il sogno olimpico di Federico Dura continua. Il campione ipovedenti di Judo, dopo un periodo certamente non facile, e ricordiamo che è stato per parecchio tempo orfano di una palestra dove potersi allenare costantemente, proprio in questi giorni, precisamente domani, sarà impegnato nei campionati mondiali FISPIC della disciplina in programma in Uzbekistan. L'obiettivo è chiaro, conquistare il podio per guadagnare punti preziosi per una futura convocazione 5 celchi. Bellissima esperienza, un'esperienza forse unica perché un mondiale è sempre un impegno, cioè un impegno, un confronto con atleti di alto spessore. Sappiamo che è difficile perché, torno a ripetere, al di là dell'Italia, non mi stancherò mai di dire, i paralimpici nel mondo si confrontano con i normodotati, mentre in Italia, purtroppo, i paralimpici vengono segregati a persone con handicap e quindi da parte della federazione del CONI e centrale bisognerebbe integrare di più questi atleti. Il mondiale non sarà l'unico appuntamento su cui puntare. È rifatta notizia di pochi giorni fa la convocazione anche agli europei giovanili paralimpici di Judo, che si svolgeranno subito dopo i campionati intercontinentali a Genova. Il cammino è lungo, tortuoso, però la voglia c'è e devo essere sincero un grazie particolare, ma veramente sentito, alla Meditec, Marco Antinori, che ha messo Federico nelle migliori condizioni per potersi allenare. Ma non solo lui, studio legale che sta seguendo tutto l'iter legale di Federico per cercare di far capire che i paralimpici per alcune disabilità devono allenarsi e combattere con i normodotati per andare avanti.